scarca per la torre, la torre poi dentro persia Marcus Kennedy che è tornato espone il pallone Kennedy allora Martin in campo aperto dopo l'errore di Delaney che aveva chiuso con un canestro i primi due quarti altro gioco a due fra Brown e Williams lo scarico in angolo per la bomba di Martin attacca il runner, tiro difficile, dentro e fuori tocca l'imbazzo di Watt, tocca anche Martin si resta lì, poi Williams appoggia e segna Toto Frey who waits for the bouncing ball and the dunk from Martin mentre Martin prova ad alzare la mano da tre punti il primo canestro della partita è della Dolomiti Energia quello step è che poi fa partire la palla da un'altezza difficilmente contrastabile l'assist di Martin per Williams issimo Bulleri che deve recuperare un punto con Trento che manovra con Forrai entrato in campo anche da da Pascolo poi c'è il tiro da parte di Martin Schiltz attacca Martin ti tocca il pallone, lo recupera Brown si lancia in contropiede l'assist per Martin fantastica firma del numero 20 da 16.3 punti in stagione come ricorda la grafica si prende la tripla anche Kelvin Martin che attacca gran stoppata di Watt che si fa perdonare il totem della Reier con questa gran stoppata poi però palla recuperata di Trento provare davvero la giugulare della partita non va però allora siamo dall'altra parte con Martin che rischia un po' l'infrazione di passi va poi da Giacore Williams che questa volta trova sì Trieste però in questo momento è addirittura triplicata dalla Dolomiti Energia che prova ancora a sparare si va da Martin poi Morgan torna dall'ex giocatore di Brindisi che è da fermo Brown sale Forrai che invece dalla panchina è uscito gran palla per Martin che spazza via anche Heinz Pozzecco i punti in transizione prima in Serie A sono 15.4 a gara piaccia a terra poi Martin per Giacori per l'Epicasa mentre Martin che aveva iniziato molto forte la partita questo era un po' fermato e anche sbagliato una schiacciata da solo in contropietta essere mandata dentro proprio da Dey c'è pressione rischiano i 5 secondi poi ancora Kelvin Martin asfissiante contro Brahmos off come Trento once more nice stride and fine from Martin Gentile è solo decide di prendere una tripla ma la sbaglia può partire allora la transizione della Dolomite energia concretizzata Toto Foray in Morgan Brown steps inside and then out and creates a space for the corner 3 for Martin Toto Foray Foray dato non c'è fischio Martin fascia centrale cost to cost potenziale gioco da 3 Anthony Brown Gary Brown away from Anthony Brown 5 stelle lusso mentre Martin risponde dall'altra parte e come detto le mani si stanno scaldando non sotto e ora esce invece Foray di fronte a lui De Nicolao ecco il pichero la palla dentro Martin la prende non ci arriva che tira con 52.6 da 3 punti in campionato Foray per la schiacciata con Gary Brown chiaro faro di questa squadra in questo avvio di stagione alla sua prima esperienza bella invece Williams into Martin Martin long range 2 per l'acqua San Bernardo Pecchia in difesa su Brown rischia qualcosina Brown sa che ha tre falli infatti lo punta lo punta anche Kelvin Martin che va dentro e segna con la un'azione importante per provare un pochettino a sbloccarsi con Gary Brown la palla in angolo per Kelvin Martin tiro da 3 per continuo che è il che è il che si tratta il tono è Kelvin Martin che ha un forte gioco oggi senti out guarda spazio sull'espasio 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 sull'espasio